L'Italia è una repubblica democratica fondata sul cavallo. Non si capisce niente, diciamoci la verità. Francamente è un casino, ora lo dico con tutto rispetto per il cavallo. Da domani potrete andare a ritirare la pizza, gli spaghetti, il gelato, le acciughe fritte, quello che con la modalità a cavallo, ovviamente non potete consumarlo lì, però sul cavallo. E non si può pensare che l'Italia sia un cavallo, che è un cinghiale e gliel'ha buttato giù, ma cose a caso ovviamente. Penso che sia un'esigenza primaria. Siete dei pescatori? Volete andare a pescare da una scogliera nel fiume vicino a casa vostra? Andare a cavallo, vuoti lui e il suo cavallo. Basta, dai, basta. Siamo seri, il cavallo non farà male a lui, lui non farà male al cavallo. Resteremo seri, concentrati e controlleremo ora dopo ora l'andamento del cavallo. A cavallo non è che c'è una bolgia di giovani scapestrati che si appiccica, sudaticci l'uno all'altro sul cavallo. Sto dicendo robe per cui serve un cavallo. Se una persona alle 6 della mattina si sveglia, va dal suo cavallo, sono cose normali, però sono sicuro che se vi interrogo voi sapete già che bisogna stare a cavallo. Con qualche difficoltà ho montato, magari un po' stortignaccolo, e vi porto però a vedere il nostro bellissimo cavallo.